Con questa operazione la Procura della Repubblica di Cosenza, grazie al lavoro assolutamente eccezionale portato avanti dall'Arma dei Carabinieri, in questo caso la compagnia di Rogliano, ha disarticolato una centrale di spaccio che questa volta non si colloca più nella città capoluogo di provincia né nel suo interland ma nel savuto, a dimostrazione che purtroppo la piaga dell'uso di sostanze stupefacenti è un fatto non circoscritto ma endemico che si diffonde al macchiatore. Alcune brevissime considerazioni. La prima è un lavoro importante, è un lavoro improbo portato avanti da un gruppo ristretto di investigatori molto bravi che si sono sacrificati al di là di ogni limite, nel senso che non c'è stato sabato, non c'è stato domenica, non c'è stato giorno, non c'è stato notte, poche persone con un'attività che è l'attività che voi conoscete, denunzia della persona esasperata che non ce la fa più, attività di riscontro, intercettazioni, pedinamenti, sequestri, dichiarazioni testimoniali delle parti offese. È un lavoro, dicevo, importante portato avanti seguendo ormai un protocollo ben preciso che questo ufficio, utilizzando in particolare il lavoro del dottore Cozzolino che ormai è diventato dominus in questo tipo di indagini, che questo ufficio sta portando avanti. I numeri li conoscete, le persone arrestate, alcune delle quali mi hanno fatto ritornare molto indietro nel tempo perché ricordo da sostituto mi occupai del clan Chirillo che operava appunto in quelle zone, l'enorme numero di episodi di cessione, qui parliamo di centinaia e centinaia di episodi di cessione che sono stati ricostruiti con pazienza a certosina da parte degli investigatori e i reati che non sono solo quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ma anche reati di rapina, di estorsione, di lesione, tutti funzionali alla consumazione di questo tipo di attività. sulla indagine e sullo specifico vi dirà chi è operato io vi ribadisco questo, noi abbiamo cominciato un lavoro lo stiamo portando avanti, stiamo lavorando in sinergia con la procura distrettuale questa che è un'operazione che si verifica a distanza di un mese qualche due o tre mesi di un paio di mesi dell'altra nell'Inderland Cosentino non sarà l'ultima operazione, ce ne saranno altre questo ve lo posso dire in termini di assoluta certezza perché il problema noi lo valutiamo come un problema di assoluta gravità che sta consumando le giovani generazioni per cui il nostro agire sarà improntato alla tolleranza zero speriamo e ci auguriamo che la verifica dibattimentale come negli altri procedimenti conforti il nostro lavoro speriamo che queste persone per un lungo periodo di tempo non stiano in libertà e non continuano a commettere questo tipo di reati Buongiorno, un altro risultato processuale importante faccio una piccola premessa ringraziamenti dovuti all'intera arma dei carabinieri in particolare al colonnello e al comandante della compagnia di Roiano e a tutti i militari che hanno consentito all'ufficio di procura di acquisire un importante dato cautelare in particolare però un riferimento va fatto ai militari che mi hanno poi accompagnato nei lunghi pomeriggi e nelle lunghe giornate in ufficio nella sistemazione della intera informativa nel riannodare le fila dell'intera attività d'indagine e quindi un particolare apprezzamento io sento di rivolgere al maresciallo Barone e al vice brigatiere D'Agostino fermo restando che però c'è stato il supporto dell'intera compagnia dei carabinieri di Roiano senza il quale chiaramente questi risultati non potevano ottenersi il costante rapporto con la polizia giudiziaria lo dico ormai da anni è l'unico strumento per poter acquisire risultati importanti non basta fare la delega d'indagine per iscritto e aspettare l'esito ma occorre un rapporto telefonico anche quotidiano che ti consente di panare i dubbi che man mano possono presentarsi dalla lettura delle carte e ti consente così una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine quanto al tipo di attività è la solita attività che in materia di spaccio di sostanze stupefacenti ha dimostrato di essere piuttosto proficua e cioè non solo un'attività di sterile captazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali che di per sé non può portare a nulla perché spesso soprattutto nelle conversazioni telefoniche il linguaggio è altamente criptico ma un'attività che assiste quella intercettiva c'è un'attività fatta poi sul posto sui luoghi dello spaccio che è sfociata in diverse occasioni in sequestri importanti di sostanze stupefacenti preceduti chiaramente da un'attività di osservazione e di appostamento necessaria e poi anche l'architrave di un'indagine di droga a mio avviso è rappresentato dalle dichiarazioni dei consumatori quelle aiutano a decifrare il linguaggio labirintico che spesso viene utilizzato nel corso delle conversazioni aiuta a lomeggiare le vicende che si sono avute i rapporti che si sono avuti con gli indagati e quindi è un elemento indefettibile per poter consegnare poi all'autorità giudicante un dato processuale solido e non scalfibile dalle difese degli indagati e poi degli imputati nel processo una peculiarità, poi dirò le costanti invece una peculiarità che è emessa nel corso di questa attività è legata alle modalità di occultamento della sostanza stupefacente ancora una volta vengono utilizzate diciamo delle donne che consentono di eludere i controlli occultando le sostanze stupefacenti nelle parti intime in un caso abbiamo riscontrato che un indagato approfittando diciamo di una condizione di precarietà fisica diciamo momentanea di una difficoltà di deambulazione ha utilizzato la stampella in sua dotazione che gli doveva servire per incedere con facilità e con comodità per occultare la sostanza stupefacente così da eludere i controlli delle forze dell'ordine chiaramente vedendo un soggetto che già deambula male con la stampella diciamo sono un po' resti a effettuare un controllo invece le costanti che quest'indagine presenta i comuni denominatori e tra quest'indagine e le ultime operazioni in materia di spaccio di stupefacenti sono diversi anche qua la diffusione dello stupefacente in modo capillare e dal punto di vista della tipologia dello stupefacente è una diffusione completa non solo droghe leggere come marijuana ed ascisce ma anche droghe pesanti come cocaina ed eroina anche qui i reati di spaccio poi importano anche la commissione di ulteriori reati non c'è solo lo spaccio nello spaccio di sostanze stupefacenti c'è sempre poi la componente estorsiva c'è sempre poi l'azione violenta dello spacciatore che per recuperare il credito legato alla fornitura effettuata spesso è costretto tra virgolette chiaramente a ricorrere a compiere atti di intimidazione ai danni dei consumatori e quindi delle vittime e questa è un'altra costante altra costante è l'assuntore che inizia tale inizia ad assumere e poi man mano che la sua fazione aumenta e che quindi l'esigenza di acquisire disponibilità economica per far fronte ai debiti aumenta si trova poi catapultato nel circuito degli spacciatori quindi da assuntore c'è il passaggio poi quasi sempre avviene questo a spacciatore e l'ultima costante che volevo segnalare è diciamo il sistema di vita per la maggior parte degli indagati che abbiamo attenzionato in questa indagine lo spaccio era diventato un sistema di vita e questo lo dimostra il fatto che alcuni avevano riportato numerosissime condanne già passate in giudicato anche per reati specifici alcuni erano sono coinvolti in procedimenti ancora subiudice e quindi che non hanno avuto ancora un epilogo con il passaggio giudicato della sentenza con la pronuncia della corte di cassazione alcuni erano già ristretti agli arresti domiciliari nonostante queste situazioni i soggetti imperteriti hanno continuato l'attività di spaccio perché chiaramente questo è un sistema di vita per loro non hanno non ci sono alternative per queste persone ed anzi a volte la sottoposizione del spacciatore agli arresti domiciliari finisce indirettamente quasi per agevolare l'attività di spaccio perché l'abitazione diventa la base logistica il punto di richiamo di tutti i tossicodipendenti e quindi sotto certi versi finisce questa misura per agevolare l'attività di spaccio questo è il quadro diciamo complessivo dell'indagine di svolta grazie prego buongiorno io innanzitutto prima di iniziare credo che sia da parte mia doveroso e giusto come fatto in altre circostanze ma ancora una volta ho il piacere di farlo di esprimere la mia personale gratitudine al procuratore al dottor Consolino ma direi a tutta la procura di Cosenza per la fiducia che viene giornalmente accordata all'operato dei carabinieri del comando provinciale fiducia che noi con impegno e dedizione vogliamo corrispondere con risultati operativi e l'impegno e la dedizione è quella che hanno messo in campo in una lunga indagine particolarmente articolata proprio i carabinieri della compagnia di Rogliano a cui va chiaramente da comandante provinciale il mio assoluto plauso detto ciò consentitemi un attimo di prendere lo spunto da quello che ha detto il procuratore per allergare un attimo lo spettro di questa riflessione riflessione che riguarda proprio la diffusione delle sostanze stupefacenti in questa provincia prima di venire qui ho fatto due calcoli che sono chiaramente correlati ai primi cinque mesi del 2019 e i dati che ne emergono secondo me sono particolarmente allarmanti li vado a leggere in cinque mesi il comando provinciale ha eseguito qualcosa come 88 misure cautelari personali di cui ben 67 fanno capo al comune di Cosenzi all'Interland e sono state emesse su attività svolta dalla procura della repubblica di Cosenza ma a queste attività si aggiunge una serie di arresti in flagranza ne abbiamo contati ben 71 in cinque mesi a cui si aggiungono 43 pusher che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria in stato di libertà l'altra faccia della medaglia che a mio avviso non è meno preoccupante è rappresentato chiaramente dal mondo della tossicodipendenza che prima citava il dottor Cozzolino stiamo parlando di qualcosa come 218 assuntori che sono già stati segnalati alla prefettura di Cosenza per gli aspetti amministrativi e molti altri ne verranno segnalati proprio a seguito di questa attività di indagine in cui chiaramente il cui dato adesso è ostensibile io credo che questi numeri siano dei numeri che debbono fare riflettere perché indicano sostanzialmente che il mercato degli stupefacenti è un mercato florido è un mercato che soprattutto attira a sé i giovani e qui è il dato appunto che si portava al tavolo ossia il coinvolgimento di giovani molto spesso proprio per l'evoluzione dei fatti nella duplice veste di assuntori prima e di spacciatori ma la cosa più grave è che la soglia dell'età si è notevolmente abbassata per cui in ognuna di queste indagini nell'indagine che abbiamo commentato qualche mese fa denominata convenzionalmente alla RICO ma anche in questa ricorre la presenza di minorenni io credo che su questi dati si debba riflettere un po' più ampiamente cercando soprattutto il contributo della società cecile e in questo caso ancora una volta così come nella RICO il dato forte era rappresentato dalle cosiddette mamme coraggio anche qui come nasce l'indagine l'indagine nasce nel lontano ottobre del 2016 nel momento in cui un ragazzo di Rogliano viene ricoverato in ospedale proprio perché ha assunto delle dosi di eroina tagliata male e lì inizia un'attività che chiaramente vede dallo stessa parte le istituzioni ma la famiglia cioè la famiglia convince il giovane a denunciare e da quel momento in poi si apre quell'attività che oggi andiamo a commentare che è particolarmente complessa e che chiaramente si dipana attraverso attività tecniche come è stato detto ma anche la collocazione in modo strategico di sistemi di videosorveglianza che ha consentito di documentare come da video che abbiamo diffuso dei passaggi repentini tra spacciatori e tossicodipendenti e anche qui il dato secondo me particolarmente grave è che ciò avveniva di giorno e anche in aree che normalmente sono frequentate da giovani quindi abbiamo riscontrato esercizi pubblici abbiamo riscontrato la villa comunale di Rogliano un contesto che comunque è alquanto circoscritto tutto ciò di cui stiamo parlando è chiaramente corroborato non solo da quanto è stato rilevato dalle attività tecniche ma soprattutto dai riscontri che sono stati fatti in una serie molto prolungata di servizi di pedinamento e di osservazione che hanno in ultimo portato a cristallizzare ben 200 episodi di cessione che diventano mille se teniamo in considerazione poi le dichiarazioni assunte dai tossicodipendenti abbiamo individuato 66 assuntori che come dicevo verranno segnalati ulteriormente alla prefettura e poi chiaramente come si diceva allo spaccio si legano una serie di reati che definirei altrettanto gravi ed allarmanti ci sono due episodi estorsivi una rapina accompagnata da un sequestro di persona e il dato qual è il dato anche qui che accomuna questi ulteriori gravi reati il fatto che a fronte di debiti che sono stati contratti per l'acquisto di partite di sostanze stupefacenti il tossicodipendente non è più in grado di far fronte e allora lì il livello di ritorsioni aumenta progressivamente prima la vittima e il tossicodipendente dopo nel momento in cui il tossicodipendente non è in grado più di dare risposte si passa addirittura alla famiglia e alcune frasi e poi magari passo la parola al capitano Bologna sono assolutamente particolari riportate chiaramente nell'ordinanza perché a un certo punto la minaccia che i malviventi portano alla famiglia è di questo tipo attento conosciamo le tue figlie conosciamo dove abiti sappiamo che macchinai cioè iniziamo a utilizzare delle modalità di linguaggio che probabilmente sono pseudomafiose questo è il quadro che noi oggi abbiamo davanti chiaramente è un quadro che ci porta ci sollecita ulteriormente a continuare a lavorare ancora in modo più a lacre perché evidentemente bisogna dare delle risposte concrete grazie buongiorno a tutti sono il capitano Matteo Bologna comando la compagnia dell'arma di Ogliano mi permetto di iniziare questo mio intervento partendo dal presupposto fondamentale che ogni attività investigativa trova la propria ragione d'essere vale a dire la collaborazione e il sostegno quotidiano che ogni forza di polizia in questo caso la mia compagnia trova puntualmente nell'autorità giudiziaria nella persona del procuratore dottore Spagnolo nella persona del sostituto procuratore dottore Cozzolino e ovviamente della scala gerarchica la quale laddove la compagnia non arriva sopperisce con uomini e mezzi al fine di raggiungere il risultato operativo più importante e più confacente alle necessità probatorie concordate con l'autorità giudiziaria questa come diceva per l'appunto il signor comandante provinciale dell'arma di Cosenza è un'attività che affonda le proprie origini nel passato la radice è essenziale un ragazzo che si sente male e che in una realtà che di primo acchito può sembrare abbastanza tranquilla come quella della valle del Savuto ecco a un certo punto emergere un episodio di crisi un ragazzo che si sente male viene trasportato d'urgenza in un ospedale e si ha il contatto primo di una lunga serie in realtà con le famiglie dei tossicodipendenti che purtroppo siamo stati abbiamo dovuto identificare e individuare nel corso dell'attività di indagine contatto che si palesa per quello che è nel senso un momento di disperazione un momento di sfogo da parte dei familiari del ragazzo in questo senso sicuramente l'arma è avvantaggiata dalla propria capillarità per cui si parte da una confidenza fatta nei confronti di un nostro maresciallo del nostro comandante di stazione e si arriva poi a concretizzare un atto di polizia giudiziaria elementare come quello che ad esempio proprio la querella da parte della persona vittima che cosa non comune decide di denunciare e quello costituisce il punto di inizio fondamentale dal quale parte tutto sicuramente l'attività ha avuto poi un respiro più ampio probabilmente anche rispetto a quelle che sono state le nostre aspettative iniziali perché da un contesto prettamente rogianese siamo riusciti poi a salire di livello e a individuare e identificare il canale di approvvigionamento vero e proprio che vede la propria base ovviamente nel capoluogo Bruzio sicuramente il nostro sforzo investigativo è stato finalizzato a identificare il fenomeno nel suo complesso ora al di là dell'attività di mera vendita al dettaglio della sostanza stupefacente laddove comunque l'offerta ai consumatori era ricca e variegata comunque la sostanza stupefacente era disponibile a qualunque ora del giorno e della notte aveva prezzi assolutamente concorrenziali per quello che è stato possibile riscontrare nell'ambito della nostra attività sicuramente aveva rappresentava portava con sé un ulteriore aspetto quello delle dinamiche che coinvolgono i familiari degli assuntori sia nell'aspetto quotidiano del dolore del sostegno ai loro congiunti che incappano nel fenomeno delle sostanze stupefacenti sia nel far fronte alle conseguenze che verso l'esterno del nucleo familiare questo sistema impone e da qui ecco gli episodi estorsivi come diceva il signor coronnello nel momento in cui il tossicodipendente spesso disoccupato spesso già in una condizione di disagio suo sia fisico che personale incontra delle difficoltà anche di carattere economico il livello si alza lo spacciatore il pusher non si accontenta più di pressare il singolo tossicodipendente passa a minacciare in maniera anche concreta con palesando la possibilità di ritorzioni fisiche anche o comunque contro i beni del nucleo familiare arriva anche a minacciare gli elementi gli appartenenti al nucleo familiare medesimo in questo senso siamo riusciti a focalizzare un paio di episodi estorsivi di una notevole gravità per cui il pusher intercettato inconsapevolmente non usa mezzi termini e laddove le parole non sono risultate sufficienti è passato poi alle vie di fatto per cui nel momento in cui c'è stato la necessità di recuperare un credito non c'è stato alcuna remora a usare armi è il caso della rapina con il sequestro di persona su cui magari credo che sia un episodio particolarmente allarmante perché il soggetto è stato ma adesso vi dirà caricato in macchina di peso costretto a salire in macchina costretto a raggiungere insieme ai due push la propria abitazione e lì devubato sostanzialmente di tutto quello che c'era di valore in casa dai telefoni cellulari alle chiavi della sua automobile alcuni molini monili in oro e una discreta somma contante quindi all'occorrenza si passava tranquillamente dalle parole alle vie di fatto la drammaticità ovviamente degli episodi ha fatto sì che comunque in capo a questi soggetti sorgessero responsabilità molto pesanti qualificate appunto dai titoli di reato che l'autorità giudiziaria ha identificato il loro carico in questo senso oggi abbiamo eseguito 13 misure cautelari personali in danno nei confronti di altrettanti soggetti altre persone sono state identificate in stato di libertà e sicuramente quello odierno rappresenta veramente un durissimo colpa quello che è l'attività di vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti di qualunque natura in tutta la valle del Savuto grazie domande nessuna domanda grazie questa è l'ennesima operazione che noi portiamo avanti questa volta su una zona territoriale ben precisa che è quella della valle del Savuto troppe indagini in materia di droga noi ci stiamo avvicinando pericolosamente al modello criminale di scampia c'è una presenza una diffusione endemica di sostanze stupefacenti di tutte le sostanze stupefacenti che riguardano giovani giovanissimi che per pagare la droga si trasformano al loro volto in spacciatori è un reticolo che stiamo cercando di distruggere dal punto di vista criminale con tutta una serie di indagini con numeri anche in questo caso enormi a fronte dei 13-14 arresti abbiamo circa mille episodi di cessione ricostruite e sono tantissimi ecco è evidente che l'intervento di tipo repressivo in questo contesto serve soltanto ad allievare personalmente il problema il problema va affrontato radicalmente la società cosiddetta civile deve impegnarsi perché altrimenti un'intera generazione corre dei rischi enormi a causa di un debito di poche decine di euro o almeno quello che inizialmente è stato un debito di poche decine di euro il giovane tossicodipendente che nel caso specifico tra l'altro era anche minorenne è stato attivato sostanzialmente in una trappola un gioco dal quale non è più riuscito a uscire al quale che ha comportato necessità economiche che sono andate al di là delle sue possibilità a questo punto questo noto pregiudicato dell'area voglianese si è rivolto ai suoi genitori alla sua famiglia e esplicitamente al padre di questo ragazzo senza usare mezzi termini usando parole di una schiettezza di raccapricciante ha intimato proprio io conosco le tue figlie so che ne hai tre so dove vanno a scuola so dove abiti sono parole di una gravità che non si può fraintendere e la misura odierna rende giustizia anche alle disperazioni di quella famiglia che è arrivata al punto addirittura di non poter più uscire di casa per paura di atti ritorstivi da parte di questa persona e dei suoi accoliti e dei suoi accoliti